Il 3 aprile, nella prestigiosa cornice dell'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia a Milano, si è tenuto l'interessante workshop di infoprogetto dedicato al design del benessere. Tavole rotonde tecniche e scientifiche per l'incontro tra i professionisti del settore e i progettisti d'architetti. Oggi il convegno tratterà la tematica legata al design del benessere, in particolare come gli impianti sportivi possono e si sono evoluti in questi anni e avremo la presenza di un architetto che è tra i più rinomati in Italia nella progettazione e realizzazione di impianti sportivi di altissimo livello che non riguardano solo l'aspetto sportivo ma anche l'aspetto appunto del benessere, quindi riguardanti gli spogliatoi, le aree benessere che sono a contorno poi di un impianto che oggi hanno una valenza molto importante sia per l'aspetto del comfort ma anche per l'aspetto visivo, per l'aspetto legato alla sostenibilità e al microclima interno. Avremo la presenza di un campione del mondo e di un altro grande campione sportivo che oggi è rappresentante del CONI e quindi potremo anche coniugare questa doppia veste dell'impianto sportivo anche visto da chi per anni ha praticato a livello internazionale, a livello mondiale, diciamo lo sport ad altissimi livelli. Quindi come sempre la formula è una formula vincente perché tratteremo aspetti appunto in tavole rotonde scientifiche e poi avremo l'aspetto legato alle aziende che potranno dare evidenza oggettiva dell'installazione dei propri prodotti all'interno di casistori di eccellenza. Grazie per la visione!